Un déjà vu ossessivo che continua a passarmi davanti agli occhi è come un film vecchio di 15 anni che la mente ha proiettato il rivisto troppe volte e che non vuole andarsene mamma le aspettative di vita non mi davano la certezza di arrivare a 10 anni ho vinto la battaglia non lo so lo spero certo non mi faccio illusioni non so neanche che suono abbia la mia voce ma ogni giorno ripeto a me stessa che voglio crederci e lottare e anche se allo stato delle cose non posso permettermi i prospettivi a lungo termine voglio ugualmente annotare tutto della mia vita anche i sogni anche ogni minima emozione così quando non ci sarò più rimarrà qualcosa di me e di quelle sensazioni delle quali posso solo scrivere e mai descrivere questa è una piccola storia un pezzetto della mia vita e non potrebbe essere diversamente perché tutto accade in pochi giorni oggi non vado a scuola scrivere la sola cosa che posso fare e che amo fare anche se oggi mi sento come un piccolo tronco spezzato che però vuole continuare a vivere e a sognare mamma 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 mamma